Musica Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di questo mercoledì 27 febbraio. Nelle prime pagine dei quotidiani regionali oggi la cronaca con un decesso avvenuto a Perugia, un incidente domestico dovuto ad una termocoperta, poi un'inchiesta sui Rom che a Foligno rifiutano le case del Comune e poi anche diverse notizie riguardanti anche inchieste del Tribunale e addirittura nuove vie di comunicazione urbane cittadini. Lo vedremo appunto nelle prime pagine dei nostri quotidiani. Cominciamo dal Corriere dell'Umbria, appunto vi dicevo a Foligno i Rom rifiutano le case del Comune, si legge nel taglio in alto, nessuna intesa sul ricollocamento dei residenti del campo di Santeraclio in vista dello sgombero. E poi in basso appena sotto con tanto di foto vedete Todi si svuota addio alla città più vivibile al mondo. Continua lo spopolamento della parte antica della città definita 28 anni fa la città appunto più vivibile al mondo. Questo lo vedremo ovviamente all'interno. Copiano la password della prof e si alzano i voti, anche questa notizia abbastanza singolare. Sei studenti delle superiori finiscono al Tribunale dei minorenni, sono entrati nel registro elettronico aumentando i giudizi di chimica. Processi più veloci per nozze nulle, sempre ovviamente nella nostra regione, e barelle in corsia per l'influenza sempre a Perugia. Poi si torna a parlare di eco-mafie, i sopralluoghi iniziano da Terni. E poi lo sport, anche oggi a caratterizzare questo mercoledì perché c'è in campo il Perugia, il Grifa Venezia per centrale in riscatto, onesta carica, mi fido dei miei ragazzi alle ore 19 al Penzo. Poi la Sir si coma Colussi in Champions contro Izmir per chiudere a punteggio pieno il girone, anche stasera la partita dei bianconeri alle 20.30. Foligno in Coppa, sfida al Tolentino dell'ex Mosconi, anche qui Coppa Italia eccellenza ore 19. Poi Ternana, 21 infortuni da inizio stagione, Gubbio in difesa arriva, Ferretti se ne parlerà ovviamente nello sport, seconda parte della nostra rassegna. Passiamo al messaggero regionale, un carrello di contraddizioni, spesa sempre più bio ma in pochi controllano l'etichetta, conservano male i prodotti. L'esperto, la corsa al salutistico, interessa tutto l'alimentare ma serve più informazione. Così apre il messaggero in prima pagina e poi vi dicevo dell'incidente domestico di Perugia, muore per la termocoperta. Anno orribile di infortuni. Perugia, incendio in casa, settantenne cade e resta soffocato. Sotto, una piazza rilanciata da bimbi artisti, sempre a Perugia. A Terni, le buche tappate con il tesoretto delle multe. E poi vicino, con tanto di foto, tratta dal film La Guerra dei Roses, sei perverso, io ti lascio. Perugia, dal tribunale ecclesiastico, vengono fuori decine di separazioni per i vizi di lei e lui. Se ne parla appunto all'interno. Poi anche la politica, regione, indagine sui premi extra in alto. Lo sport con il Perugia-Venezia per ripartire. Nesta, fiducia ai ragazzi. Ternana, crisi di risultati, nove partite appena a tre punti e zero vittorie. E poi anche le tendenze del momento, dunque anche un po' il costume. Da Perugia, la rivoluzione del look. A noleggio, si legge, chiudiamo le prime pagine con la nazione regionale. Muore nel rogo della termocoperta. Fiamme e monossido, scusate, orribile fine per un settantenne. Sempre a Perugia, anziana, adotta la colf come figlia e lei le porta via un milione di euro. I soldi usati per comprare anche una casa al fidanzato. Vicenda davvero abbastanza incredibile, ma purtroppo reale. Il metrobuff del futuro, se ne parla all'interno, per quanto riguarda sempre la città perugina, con tanto di foto che può far capire quello che potrebbe essere tale nuovo mezzo di trasporto. E poi nel lago Trasimeno, prete criticato dai fedeli sui social, non ama i cani. A Terni, consiglio comunale, diossina nei cibi. Il pericolo fu nascosto. Poi si torna anche sul caso degli insulti razziali al bambino di Foligno da parte del prof. Bambini umiliati a Foligno, polizia postale in azione, congelato il profilo Facebook del maestro. Così si legge dunque nella prima pagina della nazione. Allora cominciamo a sfogliare con le pagine riguardanti la regione. Il Corriere dell'Umbria, che inizia parlando del Tribunale ecclesiastico più veloce il processo per annullare le nozze. L'intero iter si svolge nella maggior parte dei casi in meno di un anno. Nel 2018, trattate 189 cause, in calo il numero dei nuovi procedimenti. La crisi si fa sentire, aumentano le coppie che si affidano al legale gratuito a disposizione. Questa l'inchiesta con cui apre la pagina regionale Il Corriere. E poi si passa a questa notizia con la governatrice Marini, che dichiara contro la mafia mai abbassare la guardia. La governatrice invita a tenere alta l'attenzione in itiner una legge per la prevenzione attivo. Un osservatorio permanente. Poi Salvini, che dichiara quota 100, 1000 domande, orgoglioso dei risultati. Ovviamente si parla anche della zona perugina per la nuova riforma sulla pensione. Lavori pubblici, gare per nove opere. Adottato in giunta il primo programma triennale della regione, previsto dal Codice degli Appalti. Dunque, sempre a Perugia, che parla anche di sanità, ancora barelle nelle corsie. Continua il picco dell'influenza. I reparti del Santa Maria della Misericordia costretti a lette aggiuntivi nei corridoi. 15 solo in un giorno. E in basso, bambino di tre anni con la meningite e già sotto profilassia antibiotica. Due casi osservati speciali nella clinica pediatrica e nel reparto di malattie infettive. Padre e figlio ricoverati per tubercolosi. Pazienti sotto osservazione. Periodo ovviamente di veri e propri flagelli per quanto riguarda anche le influenze e i malanni di stagione. In questo caso, abbastanza anche forti. Poi si torna a parlare di fonti vegge. Sappiamo tanti incendi e roghi anche alle macchine. Negli ultimi tempi, fonti vegge è sempre più terra di nessuno. Si legge bivacchi, siringhe e danneggiamenti. I cittadini fanno partire un esposto per sollecitare controlli. E una seria riqualificazione della zona che ovviamente riguarda anche la stazione perugina. Incontro con il sindaco Romizzi. Già fissato un'assemblea con i residenti e commercianti per parlare appunto del quartiere fonti vegge di Perugia. In basso potete vedere a Palazzo dei Priori la cerimonia di consegne ai volontari da parte del sindaco Romizzi. Premiato il grande cuore dei volontari. Quindi, truffa alla concessionarie. Vendevano auto falsificando la proprietà. 8 a processo. Contestata anche l'Associazione per delinquere. Taroccati certificati autorizzazioni. 20 le parti offese, tra cui anche i pubblici registri. Con l'indagine di Carabinieri Polstrata. Ben 17 le querele su questo caso avvenuto sempre nel Perugino. Poi a Santa Maria Rossa muore asfissiato dal fumo della termocoperta in fiamme. Enzo Piselli, 72 anni, è deceduto in casa vicino al letto. Inutili i soccorsi. Poi lo vedremo anche nel dettaglio sugli altri quotidiani. La notizia che abbiamo letto in prima pagina. Rubano password della prof e si alzano i voti. Sei studenti di un istituto superiore del capoluogo finiti davanti al giudice del Tribunale dei Minori. Ritoccati i giudizi di chimica. In centro a Perugia risse l'esistenza pubblico ufficiale. I carabinieri costituiti parte civile. Sempre a Perugia ladri a Ramazzano. Razzia in casa a Goretti. Il presidente dell'osservatorio sulla disabilità vittima di un furto. Il 2 marzo ricorre peraltro la morte anche di Luca Rosi. Questo per quanto riguarda dunque la pagina della regione che per il Corriere si chiude con la notizia che riguarda la Perugina. Nestlé, nessuna linea verrà dismessa. La multinazionale è pronta a spiegare i propri piani dopo l'interrogazione dell'onorevole Ciprini del Movimento 5 Stelle sul futuro appunto di Perugina. Il gruppo alimentare lancerà un nuovo Kit Kat previsti altri 2 milioni dopo i 60 già stabiliti nell'accordo del 2016. Vicino, eccellenze produttive che vogliamo sostenere. Il sottosegretario Guidesi visita le aziende Cancellotti e NCM sempre del Perugino. Questo per chiudere le pagine regionali per quanto riguarda il Corriere dell'Umbria. Passiamo al messaggero, messaggero che apre con la sfida di Piazza Birago. I bambini diventano artisti. Una giornata di eventi tra arte e ballo per rilanciare la zona di via fonti coperte. Ovviamente parliamo sempre del Perugino. Anche writer in azione per realizzare opere ed esporre nei locali abbandonati. Questo ovviamente a Perugia. Poi in basso si parla anche del volontariato. Abbiamo visto promozione sociale assegnati gli Oscar ai cittadini modello da parte del sindaco. E poi sulla pagina accanto si parla della notizia con cui apre. Poi il messaggero soffocato dal fumo della termocoperta. Dramma a Santa Maria Rossa. Uomo di 72 anni muore in casa. Mentre cerca di mettersi in salvo dalle fiamme. E inciampati in una sede non è riuscito a rialzarsi. Decine di interventi per l'incendio delle coperte elettriche. In caso davvero spinosi questi degli incidenti domestici. Sempre di più. Colpo di fucile vicino alle case. Scatta l'allarme per i bracconieri. Sempre nella zona del Perugino. E poi abbiamo visto anche in prima pagina la notizia delle decine di separazioni per i vizi di lei e lui. In testo per ai impiegati aumentano i commercianti. Poi passiamo sempre al Perugino con la notizia che riguarda appunto quest'indagine fatta sulle spese alimentari. Un carrello pieno di contraddizioni. Nella lista della spesa sempre più prodotti salutistici. Ma poi si sbaglia conservazione e preparazione. Lucio Tavarrini della Federcarni dichiara si acquista bio per tendenza senza distinguere prodotti industriali, artigianali e naturali. Con tanto di grafico per appunto esplicare tale inchiesta. Regione indagine interna sui premi extra. Riprende dalla prima pagina. E poi si torna a parlare anche della Nestlé. Via da San Sisto. I vecchi prodotti ne arriveranno di nuovi. Niente dismissioni. In basso anche Expo Casa che costruisce il futuro. Presentata ieri appunto la prossima edizione di Expo Casa. Poi passeremo a vedere anche le pagine comprensoriali sempre del messaggero. Chiudiamo allora le pagine regionali con la nazione. La nazione che apre con questa notizia sulla mobilità. La rivoluzione in due mosse si legge nella ricetta così la definisce la nazione di Romizzi. Metro tram e metro bus per cambiare le abitudini dei perugini. Eccolo è lungo 18 metri e servirà un bacino di 26.000 abitanti. Vicino potete vedere anche la foto di quello che potrebbe essere l'ispirazione da cui è nata appunto questo nuovo mezzo di trasporto che potrebbe caratterizzare la città di Perugia. Centro storico, navetta accessibilità. Non vogliamo riaprire la ZTL alle automobili. Si legge nella pagina accanto dunque. La città che cambia è sempre Perugia ovviamente. Bando periferie. La svolta è servita. Firmata la nuova convenzione ma il comune dovrà anticipare i fondi. Questo per quanto riguarda anche dunque la parte urbana della città. Poi il fatto veicola fuoco ma stavolta era solo un corto circuito. Si legge vicino per fortuna mentre si torna a parlare anche del quartiere di Fontiveggia. Sposto con certo firme. Dateci una speranza. Residenti, commercianti e professionisti inviano un documento al comune. E alle forze dell'ordine. La notizia della termocoperta a fuoco. Muore settantenne. La tragedia Santa Maria Rossa. Nipote sfonda la porta trovando il nonno senza vita. Disposta all'autopsia. Enzo Piselli ucciso dalle esalazioni del monossido. Si legge per quanto riguarda anche l'ipotesi investigativa da parte delle forze dell'ordine. Poi scomparsi in 98 in un anno un corso per le ricerche e l'assistenza alle famiglie. Così anche questa ricerca da parte della Polizia di Stato. Quindi si torna a parlare sulla nazione anche della vicenda degli insulti razziali del maestro di Foligno alla ragazza appunto allo scolaro congelato il profilo Facebook del maestro. Bimbi umilati in classe. La procura apre subito un fascicolo. Acquisti in verbali con le frasi dei genitori degli altri bambini dette alla dirigente. E in basso si legge appunto del sindaco che propone questo encomio alla classe dei fratellini nigeriani. Hanno reagito nel migliore dei modi anche se sono ancora scossi. Emi Smetti visiterà la Monte Cervino presto l'incontro con la famiglia. Ho parlato con il legale. Si legge. E poi si torna a parlare appunto della notizia delle separazioni. Più donne chiedono l'annullamento. Il Tribunale Ecclesiastico Umbro inaugura l'anno giudiziario. Nel 2018 sono state dichiarate nulle. 189 unioni religiose. Questo per i matrimoni finite. E poi il caso. Adotta la Colf che le prosciuga il conto. A processo il fidanzato. La vicenda devastante di un'anziana morta povera dopo che la figliastra le ha preso un milione di euro. Questa notizia è davvero emblematica della situazione attuale. Continuiamo a parlare sempre nel Perugino delle amministrative. Ecco i nuovi acquisti avvocati, imprenditori e medici. Ecco le indiscrezioni sui candidati. Tra i papabili non ancora ufficiali anche Fotini Giustozzi e Alessio Fioroni. Si parla poi anche di Michele Nannarone, Massimo Pici, Roberta Ricci, Luca Panichi. Come detto anche Fotini Giustozzi e Alessio Fioroni. La segnaletica poi. Il teatro di Sacco diventa di Isacco. Il cartello apparsi in corso Cavour. Questa notizia ovviamente di curiosità. L'aeroporto adesso sbarca anche sui social network invece dal 28 febbraio. Profili Facebook, Instagram e LinkedIn. E poi parlando sempre della Perugina. Niente sarà smantellato. Nestlé rassicura sulle sorti dell'azienda di San Sisto. Cron pronti al confronto. Il pressing della Ciprini. La parlamentare Umbra ha chiesto un'audizione per chiarire il futuro del sito. Mentre in basso la crisi dell'Officina della Scienza. Il post chiude. Appella ai mecenati. Servono 100 mila euro. Si legge per quanto riguarda dunque anche questa notizia. Allora passiamo alla pagina dei comprensori. riaprendo dal nostro sito www.trgmedia.it che nella prima notizia della home il risalto mette la notizia della Cafa della Salute entro il 2020. Presentati il progetto da 3,5 milioni che rivitalizza l'ex ospedale di Gubbio. La presentazione ieri in comune dunque di quello che farà il nuovo ex ospedale. il centro salute, il centro della salute la Cafa della Salute come la volete chiamare pronta a nascere e rinascere e allora vediamo il servizio tratto proprio dal Tg di ieri su quello che dovrebbe essere quello che sarà scusate la Cafa della Salute posta in piazza 40 Marti da Gubbio vediamo Era gremita la sala consigliare di Palazzo Pretorio per la presentazione del progetto Casa della Salute di Gubbio a testimonianza di come il presente e il futuro dell'ex ospedale di piazza 40 Marti rappresenti per un'intera comunità una sfida e un obiettivo di rilancio attesi da almeno un decennio pesa il vulnus di un contenitore rimasto sottoutilizzato praticamente dal 2008 da quando l'ospedale si è trasferito armi e bagagli a Branca ora c'è un progetto ci sono date certe per i bandi e c'è la concreta prospettiva di vedere rivitalizzato non solo un contenitore storico ma anche un'intera area nevralgica del centro cittadino come sottolineato dai vari interventi che si sono susseguiti a partire dal sindaco di Gubbio per andare al direttore generale della USL Umbria 1 è un luogo e un edificio quello dell'ex ospedale che diciamo rientra proprio in uno degli aspetti strategici del nostro programma amministrativo abbiamo detto da subito che puntavamo a valorizzare tutto l'ex ospedale la casa della salute è una parte di questa valorizzazione molto importante perché comunque riporta delle funzioni sociali, sanitarie di grande significato piazza 40 Martiri ovviamente per noi rappresenta un riferimento essenziale nell'accesso alla città nel rapporto con i cittadini e anche proprio come luogo di scambio tra centro storico e territorio il progetto della casa della salute comprenderà consentirà di allocare all'interno del ex ospedale a piazza 40 Martiri tutti i servizi territoriali quindi dismettendo anche i contratti di locazione che abbiamo in corso concentrazione dei servizi che è uno degli obiettivi che abbiamo su tutta l'ASL quindi avere gli ospedali e le case della salute in modo tale che ci sia in un unico contesto tutti i servizi ovviamente presentiamo il progetto ciò non significa che siamo indietro siamo molto avanti a questo punto perché la presentazione del progetto significa progetto realizzato esecutivo e che il mese di aprile verrà bandita la gara dei lavori per realizzare questa importante ristrutturazione che costa intorno a 3 milioni 3 milioni e mezzo di euro e contiamo ovviamente salvo sempre ricorsi perché questo dobbiamo metterlo in conto anche se speriamo di non averli di poter iniziare i lavori entro ottobre e novembre Termine dei lavori il progetto quando sempre salvo complicazioni quando potrebbe essere completato Fine 2020 Sono intervenuti all'incontro anche la vice sindaco di Gubbio Cecchetti mentre l'illustrazione dei dettagli tecnici del progetto è stata curata dal responsabile attività tecniche della USL1 Fabio Pagliaccia le conclusioni della presentazione sono state affidate all'assessore regionale alla sanità Luca Barberini Questo intervento su Gubbio era atteso da diverso tempo oggi lo presentiamo alla città abbiamo le risorse finanziarie per iniziare il progetto per iniziare il lavoro che attendevamo appunto da diversi anni ci abbiamo avuto qualche ostacolo diciamo qualche vincolo di tipo autorizzativo ma l'abbiamo superati e oggi insomma lo presentiamo alla cittadinanza e partiamo spediti in questo intervento di ristrutturazione e riqualificazione che permetterà appunto di collocare nella città di Gubbio mettere insieme tutti i servizi territoriali e credo che sia una bella risposta che diamo a tutta la città tutta la comunità e che attenderanno da tempo E sull'utilizzo della porzione a est dell'immobile destinata a uffici comunali sia il sindaco di Gubbio che l'assessore regionale alla sanità hanno parlato all'unisono Chiaramente l'altro obiettivo strategico per noi è quello di valorizzare la parte che diciamo così guarda San Francesco diciamo l'ala est dell'ex ospedale che noi abbiamo immaginato come sede della maggior parte degli uffici comunali c'è una questione aperta con la regione dell'Umbria lì è fallito un piano urbano complesso che noi abbiamo ereditato in condizioni appunto di totale immobilità da lì vogliamo ripartire una parte di quelle risorse è stata recuperata però con la regione vogliamo fare un passo ulteriore che è quello di poter valorizzare anche quest'altra ala e di poterla adibire appunto per la più parte delle funzioni organizzative dell'apparato comunale il comune spera di poter collocare in questi mobili anche dei servizi comunali però la parola della regione è importante da questo punto di vista si può fare? credo proprio di sì va nel solco di una collaborazione non solo con il servizio sanitario regionale quindi con l'azienda e con l'assessorato ma anche una valorizzazione nella regione come patrimonio appunto regionale come ente locale come comuni del resto è la conferma che per il recupero di questi immobili serve la collaborazione di tutti e cerchiamo anche di concentrare quelle che sono risposte che debbono essere date la pubblica amministrazione diversamente articolata questo è il servizio dunque sulla Caffa della Salute da parte della nostra emittente che ha aperto la pagina dei comprensori se ne parla ovviamente anche nei quotidiani ma partiamo per quanto riguarda la zona lacustri il lago Trasimeno droga e pistole in casa condannato un anno e mezzo di reclusione un 45enne scoperta anche se piantine di cannabis successa a Magione aveva nascosto all'interno della sua villetta di San Feliciano vasetti di vetro pieni di marijuana e una colt calibro 38 passiamo invece alla zona Assisana Assise Bastia Umbra si legge bollette dell'acqua in ritardo famiglie beffate tante segnalazioni da parte degli utenti che per colpa dei disguidi sono costretti a pagare la mora nel 2017 sono arrivate non sono arrivate scusate fatture per circa 8 mesi le cause del disservizio pesa il cambio di gestore e la voglia di risparmiare in alto parla anche il sindaco Stefania Proietti che scende in campo dopo i furti degli ultimi tempi che hanno creato allarme in città nessun sindaco può diventare sceriffo dichiara Stefania Proietti mentre i commercianti si legge in basso puntano su Lucio Raspa come primo cittadino scelta sorprefa da parte della lista denominata imprese sviluppo si spacca il fronte del centro-sinistra dunque anche la politica che tiene banco in vista delle elezioni di maggio passiamo a Todi Marciano il centro si svuota solo 1500 residenti all'interno delle mura non c'è più traccia della città definita nel 1991 la più vivibile al mondo parliamo ovviamente in questo caso di Todi lo spopolamento ha portato alla chiusura di gran parte dei negozi in alto sempre a Todi parte la mobilitazione contro l'inquinamento dell'aria si legge quindi passiamo alla zona dell'Alto Tevere città di Castello con questo scontro sulla posizione della centralina Arpa Movimento 5 Stelle Comitato per la Salute e Castello Cambia contestano la scelta del CVA di Trestina a discapito della Color Glass anche una mostra fotografica dedicata alla E45 poi notizie in breve Castagneto a fuoco a Sant'Agnese indagini per trovare il piromane furti in un negozio di via grandi rubate poche decine di euro in basso si torna a parlare anche del carnevale Redodone apre il carnevale a Garavalle prossima tappa in centro domenica dalle 15 appuntamento con le maschere accompagnate d'animazione Mangiafuoco Trampolieri musica e dolci ancora Umbertide Sogepi 50 lavoratori ancora in attesa i dipendenti attendono il decreto fallimentare per accedere al fondo di garanzia IMS Fono senza stipendio dall'estate 2017 a Città di Castello studenti in cattedra nel ricordo di Lamberto parliamo di Lamberto Lucaccioni ragazzo scomparso qualche anno fa ad appena 19 anni passiamo passiamo alla pagina ora passiamo alla pagina di Gubbio dove si parla appunto del centro di salute ex ospedale cantieri aperte ottobre l'edificio ospiterà la casa della salute numerosi uffici comunali la ASL stanza 3 milioni di euro per i lavori abbiamo già visto il servizio per quanto riguarda appunto la casa o centro della salute che dir si voglia Gran balo dei sant'antoniari iniziato il conto alla rovescia sabato prossimo l'atteso tuffo nel clima ceraiolo tante le novità vicino anche notizie di politica con l'imprenditore Luca Ramacci nuovo coordinatore della Lega di Gubbio Gualdo Tadino invece la generosità dei Gualdesi manda Veronica Rossi agli Special Olympics grazie agli oltre 2 mila euro raccolti l'atleta andrà ad Abu Dhabi per l'evento sportivo dedicato alle persone con disabilità intellettiva un sogno che si avvera quando è arrivata la convocazione sono rimasta senza parole dice l'atleta dell'atletica tarsina di Gualdo Tadino invece la storia del territorio vista attraverso la Flaminia è presentato il volume frutto delle ricerche di Don Angelo Menichelli sempre nel Tadinate Foligno è la notizia che abbiamo visto anche in prima pagina i rom rifiutano le sistemazioni offerte dal comune l'assessore tranquillo nessun'intesa sul ricollocamento prima della demolizione nella notte incendio al campo due roulotte in fiamme verificare il sottopasso della Flaminia la consigliera Filippone al sindaco in via Campagnola ci sono ferri a vista sempre per quanto riguarda Foligno si legge su questa notizia che un terzo delle strutture ricettive è irregolare Elisa Cesarini di Federalberghi nel territorio comunale ci sono 324 attività ma quelle iscritte sono solo 210 si legge nel catenaccio la responsabile Folignate di Federalberghi sollecita controlli per ragionare il fenomeno dell'abusivismo questo per quanto riguarda Foligno in basso si legge anche che è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Matteo Buratti ancora in gravi condizioni il ragazzo di 24 anni alla guida dell'altra auto protagonista dello schianto successo appunto nella notte tra sabato e domenica che ha portato appunto al decesso del parrucchiere di Spello Buratti Spoleto il comune riorganizza il personale venerdì e sabato i colloqui per 4 contabili per l'emergenza postisma pubblicato l'avviso per la mobilità interna di 3 funzionari Federcaccia da maniocrafa fa il pieno di voti sempre nello spoletino medicina e pediatria stallo su primari dell'ospedale si legge per quanto riguarda le notizie di Spoleto passiamo allora a Terni inquinamento individueremo i colpevoli ieri primi sopralluoghi a Lecrete Papigno e all'acciaieria della commissione parlamentare Ecomafie che annuncia il suo mandato su 655 ettari bonificato appena il 2% delle falde il 28% del suolo si legge poi l'appalto Aston una società finlandese riciclerà le scorie ieri rappresentazione del piano da parte della Di Burelli in regione a Perugia investiti 60 milioni e poi di Ossine il latte uova la regione non ha voluto fornire i dati si legge il consiglio comunale fa proprie le conclusioni della commissione contro le garanzie è stata proibita la diffusione dei risultati delle analisi non si è mai potuta sapere la causa delle contaminazioni dopo 8 anni questo si legge per quanto riguarda Terni e poi continuiamo fatture da pagare il comune si fa prestare 8,5 milioni l'amministrazione latini pronta a chiedere l'anticipo di liquidità alla caffa depositi e prestiti come consente la legge questo dunque anche per quanto riguarda la zona Ternana passiamo allora a vedere i comprensori nel messaggero messaggero che parte appunto con la notizia del caffa di salute o centro di salute che dir si voglia dell'ex ospedale parte il recupero si legge il nuovo progetto prevede la caffa della salute uffici comunali accorpati in un'unica sede il sindaco stirati alla fine siamo riusciti a superare l'ostacolo della perdita di 6 milioni e mezzo di euro ad assisi arriva intanto il nuovo tomografo intanto a Bastia Umbra oggi si decide su Raspa e Renzini verso il voto Umberti De Sogepi in 50 attendono ancora parte dello stipendio continuiamo con la area Folignate il pianeta Anziani lancia un SOS parte la missione antisolitudine la CISL corre ai ripari il 60% delle persone in età avanzata si sente solo dall'ante su un servizio di solidarietà per un intervento spalmato su 18 comuni questo per quanto riguarda dunque anche Foligno a Spoleti invece pienone per Rocca e Museo Ducato nel 2018 i visitatori a quota 50 mila Federcaccia di Marco Spiega nessun flop non ero candidato intanto mentre in basso si celebra anche il centenario di Pupetta supernonna di Castel Ritaldi sempre nella zona dello Spoletino a Terni dunque multe il tesoretto dei vigili per sistemare buche e strade in ballo 170 mila euro di incentivi ai vigili maturati a suon di contravenzioni nel 2018 la trattativa entra nel vivo la città perderà molti servizi di controllo dice Venturi dell'Uil per quanto riguarda sempre dunque il Ternano sempre nel Ternano tornano le bonifiche ferme troveremo i responsabili si legge la commissione Comafia i siti di Orvieto Papigni Eterni bene l'indagine ma perché non è stato fatto niente fino ad ora e in basso a 60 milioni di investimento per il recupero scorie questo per quanto riguarda dunque anche le pagine comprensoriali del messaggero passiamo allora alla Nazione Nazione che parte con la zona appunto di Assisi Bastia e Todi per le pagine comprensoriali troppe auto su via di mezzo Assisi la strada che porta all'ospedale lo segnala Rondoni per quanto riguarda questa notizia di viabilità urbanistica di Assisi Umbra continua i disservizi fatture lo dice il segretario della Lega di Assisi Stefano Pastorelli intanto a Bastia Umbra il PD sceglie il candidato stasera summit con le liste civiche a Todi nuovi locali agli operai Gubbio la città più seguita su Instagram la pagina ufficiale della città dei ceri sulla piattaforma social è la più gettonata un primato regionale raggiunto e superato la soglia dei 10.000 seguaci si legge mentre a Gualdo Tadino si torna a parlare di Veronica Rossi l'atleta che parteciperà ai special Olympics di Dubai ricevuta ieri dal sindaco è stata fatta una donazione proprio per partecipare alla importante manifestazione in Medio Oriente Barberini rassicura sul futuro dell'ospedale intanto Gubbio l'assessore nessun depotenziamento a Costacciaro il Gup accoglie l'eccezione di nullità peculato per i materiali del borgo sotto accusi il direttore del Cens si legge passiamo a città di Castello mobilità sostenibile ecco il piano l'obiettivo è incrementare l'uso delle bici a scapito delle auto torna anche poi la proposta di Lignani servono interventi mirati contro vandalismi e criminalità per quanto riguarda dunque l'esponente di Fratelli d'Italia Lignani Marchesani in basso ancora Carnevale la sfilata di Redodone è un successo con tanto di foto nonostante il vento tanta gente all'evento della Proloco passiamo sempre a città di Castello Color Glass l'arpa controlla le emissioni Trestina l'ente ecco perché è dove abbiamo scelto di posizionare la centralina poi nuovo allarme per i bocconi killer in tutto l'Alto Tevere poi un vertice la notizia della Sogepi gli operai che ora sperano nel Tribunale per prendere i stipendi arretrati giorni decisivi per una cinquantina di persone Foligno a fuoco due roulotte nel Campo Roma l'abbiamo visto anche nel Corriere dell'Umbria incendio nella notte in Via Londra in salvo i nomadi che vi risiedono le famme sono partite per il corto circuito di una stufetta elettrica a Spello schianto mortale dopo l'autopsia l'abbiamo visto di Matteo Buratti mentre la sentenza niente compensa aggiuntiva i dipendenti del comune si legge a Castelluccio intanto riparte la webcam via la raccolta fondi per ripristinare l'impianto distrutto dal sisma poi in Via Campagnola sotto passo nel degrado si legge Filipponi di impegno civile interroga sotto questo punto di vista il sindaco a Spoleto stretta finale per la casa intanto dei vigili del fuoco Terni nascosta la contaminazione da diossina approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la relazione shock su Terni Papigno questo per quanto riguarda dunque anche il Ternano anche il lavoro in primo piano sempre meno sicurezza denuncia della CISL dopo l'indebolimento degli organi di controllo molto penalizzanti il passaggio da direzione è spettorato Terni Rieti per quanto riguarda il settore trasporti si legge queste dunque le pagine comprensoriali guardiamo solo brevemente la cultura per quanto riguarda allora innanzitutto il Corriere dell'Umbria con le posie delle donne protagonista lo Zut di Foligno domani il concerto della folk singer Iosepin Foster sabato e domenica bello mondo con Mariangela Gualtieri questo appunto a Foligno mentre per quanto riguarda la nazione gli appuntamenti anche con il volo il gruppo del volo che arriva al Quasar per incontrare i fans si parla ancora dello Zut con l'evento Folignate già si parla anche dell'Umbria Jazz e poi la rivoluzione di Io Vado al Museo 20 giornate gratuite all'anno per 13 siti statali Umbri sono tra le novità del decreto del ministro Bonisoli intanto la galleria si presenta sotto una nuova luce questo dunque si vede anche sulla nazione mentre per quanto riguarda il messaggero c'è questo appunto articolo sulla rivoluzione del look a noleggio il nuovo business è nato dall'estro di tre giovani Cristina Poderini Costanza Presentanzi e Veronica Seppoloni i nostri clienti ragazzine mamme ma pure uomini in cerca del capo giusto si legge dunque questo anche per quanto riguarda un po' gli appuntamenti costume e quello che c'è di bello da vedere anche dal punto di vista artistico nella nostra regione ora pubblicità torniamo per la seconda parte con lo sport